Siamo alle solite. Anche a Castellamare il Barletta, contro una delle squadre più forti del campionato, gioca una partita piena di gioco, carattere e qualità. Alla squadra di Scianimanico manca però l'ingrediente più importante per una partita di calcio, vale a dire il gol. Un problema che i biancorossi si portano dietro da inizio stagione. Anche oggi Margiotta non si è visto, Bellumo sembra in fase calante e Infantino è fin troppo nervoso, tant'è che si è fatto anche spellere nel finale. Urge correre ai ripari, ma subito. L'attaccante di spessore va presso e in fretta, anche sacrificando parecchi soldini perché la salvezza ora è lontana, ben quattro punti, e le gare che aspettano i biancorossi nelle prossime due giornate sono da brividi. La capolista Nocerina domenica prossima è in casa e il derby contro il Foggia fuori. La Juve Stabia è la classica squadra di categoria e, così come fece all'andata, raccoglie il massimo con il minimo sforzo. Intorno al quarto d'ora l'arbitro regala un rigore ai Campani, ma Corona si fa ipnotizzare da Di Masi che respinge. Il Barletta c'è ma commette un errore in difesa, troppo lo spazio concesso agli avanti stabiesi che finalizzano in rete con Bakoku. Qualche minuto dopo, però, Campani in dieci per l'espulsione di Danucci e il Barletta costruisce la più ghiotta occasione della partita con Masiero, che proprio non ne vuole sapere di battere a rete. Nel secondo tempo il Barletta spinge, ma non fa mai paura a Fumagalli, a parte questa gran botta colpo sicuro di Guerri che viene respinta dal portiere Campano. Poi, oltre al danno, arriva anche la beffa perché alla sconfitta arrivano anche le espulsioni di Anselmi e Infantino.